ok ragazzi adipro con chidra veronica sala natura era preoccupata perché dice oddio oggi non sono preparata invece sei bellissima come sei ti ringrazio romano sei sempre gentile allora bellissima questa cosa di chidra che poi entriamo anche nel dettaglio però c'è questo espositore che è un'esperienza sensoriale di profumi ma andiamo non sono soltanto profumi c'è molto di più si c'è molto di più qui vedete due mondi di chidra le salon che si uniscono vedete questo principio di elisir tutte queste fialette che vedete sono gli elisir di chidra le salon che cosa sono di fatto sono degli oli essenziali un mix di oli essenziali che possono essere utilizzati o da soli oppure all'interno del colore all'interno del colore si all'interno del colore o prima o dopo sui capelli quindi in realtà possono essere utilizzati anche al di fuori del colore ma la parte interessante è che usati all'interno del colore rendono questo servizio assolutamente personalizzato al 100 per cento per ogni tipo di cliente abbiamo un elisir dedicato alla cute e tre elisir per la bellezza delle lunghezze che sia ricostruzione che sia diciamo rimpolpante quindi dare per dare corpo e volume e poi estrema idratazione che cosa succede lavorano con una tecnologia a cationi quindi cationica positivo negativo si aggrappano esatto si aggrappano là dove c'è bisogno quindi dove il capello necessita di un intervento e quindi vanno a lavorare proprio in maniera mirata per ottenere dei risultati massimo risultato assolutamente piacerebbe farvi sentire il profumo prima o poi arriverà la tecnologia ma è incredibile io vi consiglio di fare il percorso dal lato opposto perché sono molto delicate come fragante rischiamo un po di contaminarle se passiamo velocemente qui siamo in un angolo che abbiamo è una super anteprima super esclusiva romano perché arriviamo da un incontro a parigi a fine febbraio con appunto chiedere le salon dove ci hanno presentato quello che sarà la grandissima novità per il 2024 2025 vale a dire che tra le salon le soie che in francese vuol dire il prodotto della cura dell'air care quindi entra direttamente nel mondo air care si siamo nasce come mondo colore ma oggi è un marchio a 360 gradi con tutta l'esperienza del caso caso quindi botanica marchio che punta alla una percentuale di ingredienti naturali che va da un minimo dello 92 a un massimo del 99,9 per cento e qui vedete le due linee di detersione quella verde salvia dedicata alla cura della cute e quella rosa invece dedicata alla bellezza dei capelli e qui perché c'è questa questa parte molto bella raccolta questo rituale questo rituale perché le profumazioni sono state create scelte da un maître parfumier direttamente dalla città di Grasse che è famosissima per la creazione dei profumi quindi è una profumazione esclusiva per ciascuna linea quando un'azienda decide di fare un profumo va lì in quella zona tendenzialmente sì siamo molto contenti perché in realtà appunto è una novità poi avrete modo di vederla è un marchio eccellente l'esperienza è di 60 anni nel settore della fitoterapia quindi le piante al centro di questa linea olie essenziali sono il cuore della pianta proprio ottenuti per spremitura o per magari per l'opore se non so esattamente qua come in questo caso guarda ti dico una ti do una chicca forse non ce lo siamo mai detti in tutto questo tempo ma una peculiarità di chiedere alle salone è che sia all'interno del colore che all'interno della parte di detersione l'acqua perché acqua ce n'è l'acqua contenuta non è semplice acqua ma è acqua di decozione cosa significa acqua arricchita di principi attivi naturali e vegetali che lo restraggono attraverso sostanzialmente l'infusione attraverso l'infusione una cosa ancora nuova che apprendiamo è una cosa molto ricca ecco perché il colore è un colore trattamento ed ecco perché non è uno spreco acquistare questo prodotto perché anche l'acqua ha un valore aggiunto in questo caso quando si dice che nulla è lasciato al caso esattamente in questo caso nulla è lasciato al caso utilito immagino semplicemente si rompe da una parte e poi automaticamente quando si rompe sull'altra c'è chiaramente un rapporto da utilizzare insieme al colore ovviamente però si adatta benissimo non c'è nessun pericolo di colore che non prende assolutamente anzi non viene ritardato o modificato perché non so quali sono possono essere le domande in realtà vira il colore immagino già assolutamente tra l'altro appunto nel caso del colore c'è l'utilizzo di pigmenti puri al 99 per cento per cui ecco la nuance che scegliete è quella è quella non ci sono problemi ok la finiamo qua ma andiamo poi dall'altra parte volentieri perché voglio farvi vedere tutta la parte di rituale e che cosa è in arrivo per il 2024 intanto comunque ragazzi padiglione 25 B22 con questa esperienza sensoriale davvero top grazie grazie